ragazzi bentorni e bentornati su mio canale io sono magnus siamo qui sempre sul fifa 21 carriere animature newport county allora il mercato è andato abbastanza bene siamo riusciti anche ad accontentare un po di voi nel senso che c'è stato un grande ritorno barbutto di solito ci porta sempre bene e questo è vero ci abbiamo un paio di milioni personalmente visto che dobbiamo ancora state un milione 750 no a mania pochissimo poiché obiettivamente dobbiamo rinnovare un po di contratti io penso che a meno che non ci dovesse arrivare qualche offerta particolare qualche giocatore ma vale che non si muove praticamente niente io non credo che anche se gli altri anni a volte offerta per il presto ecco qua andiamo a trattare ho sbagliato vabbè no termina trattativa e purtroppo mi sono scordato sta cosa mannaccia miseria non dovevo trattare dovevo delegare ma è una cosa che mi viene sempre sentiva a fare ma pazienza magari come riusciremo comunque andare in prestito perché alcuni li abbiamo mandati in prestito mercato non si muove niente era prevedibile visto che non è che ci avevamo poi chissà tante scelte allora quattro offerte zitto che forse qualcosa abbiamo aggiornamento mensile aggiornamento mensile secondo mensile vabbè quindi fondamentalmente niente ormai 79 io direi di rifiutarlo 92 93 questi già sono un pochettino già meglio 94 94 porca miseria sto togliendo un po di mezzo e poi magari vediamo eh 325 non sarebbe neanche 9 però lo rifiutiamo abbiamo meneses consenza o consenza o consenza o consenza solo perché sono bene pure però costa sembra ben senza mannare 17 anni 40 64 potenziale 94 95 cioè 15 anni ci mette una vita per crescere ci vogliono 6 giorni 6 anni per farlo crescere punterei su questo enzo consens sao che sembra veramente forte e se meteo 80 non credo che sia portiere 400 fammi dire una cosa fammi poi abbiamo quest'altro aggiornamento mamma mia addirittura questo rifiutiamo press 94 91 94 66 questo è pure bravo del galles pure prende parecchia gente 16 anni john moss 48 no questo pure potrebbe non essere male sembra quasi un metro tutti un metro e 80 del galles tutti 17 anni ma si prendo john e quest'altro lo ingaggiamo certo ci abbiamo parecchi giocatori sicuramente reso conto mensile allora io direi di questo costa ce lo togliamo ok poi abbiamo detto consensato 55 cc così così è però potrebbe non essere male magari vediamo se riusciamo a mandare anche in piano di crescita ccc ok che cosa possiamo far diventare regista visto che box to box sarebbe neanche tanto male no io penso forse il tetrapista centrale è meglio a nove settimane non ci mette neanche tanto chiaro che hanno pure questi altri ne seguiamo di meno è stavolta 16 anni sono ci incartiamo l'altro che era no sapete non mi ricordo mi pare che era john sì per forza 90 questo qua questo qua 76 84 però è bravino 46 però non cresce 46 non cresce possibilità abbastanza poco che un 53 ed è un cdc vabbè bisogna di crescita magari forse è più questo c'è 37 divisione ci sta arretrato ok lo miglioriamo così vabbè basta che ci manca abbiamo l'ultimo giorno di quel caso si è concluso vabbè vuoi per noi dobbiamo giocare e dobbiamo vincere giocatore di stabilito shepard ah shepard sei ritornato questo mi fa piacere shepard perché effettivamente perché se ultimamente non è che stavo giocando tanto bene però vuol dire che almeno come terzio resto siamo abbastanza coperti allora abbiamo campionato ma andremo un po' avanti oggi si tutte partite ravvicinate vabbè facciamo dei campi non ci interessa si risolvi da solo si che problema ci abbiamo questa mossa edward si incominciamo a andarsene per questo è uno dei grandi problemi che abbiamo vedete vabbè giocheremo praticamente con il terzo portiere per forza tra l'altro poi senza neanche portiere di qua io mi porterei sempre ba edward purtroppo sta fuori e a questo punto unico che possiamo permetterci io direi gettins però mi vorrei portare anche al tamarino giochiamo così mi voglio portare anche gilkins che secondo me non è male deve giocare ragazzo quindi magari no vabbè visto che stiamo un pangolati all'import è meglio giocare così per adesso allora grande ritorno siamo stati fortunati qua è buona è buona vado alla barbutta e vai vabbè non lo è capita sta cosa nostra è buona posizione e vai void passalo no bello barbutto ho detto avete visto cioè voi avete visto barbutto mamma mia cioè noi abbiamo una sincronia ha fatto un recupero palla barbutto impressionante è praticamente un makhida più giovane più bello perché più bello di makhida eh guarda lì guarda come arriverà dietro guarda pum pum palla e mezzo pensate questo oh chi oh porca di quella paletta non lo fa tirare ha parato ha parato e che ha parato questo è inciampato che ha fatto come ha fatto a parare io ho già visto il goal ha fatto pure una bella parata ma non mi metto a piangere ok dai attenzione spazzate spazzate bravo fuori gioco no eh Kasumu Kasumu ehi mamma mia e anche da tempo Kasumu stai un po' no no eh avanti buona il gioco eh no barbutto di testa oh questo è fallo barbu alza di subito tornami ah altamarino che fa altamarino altamarino no vabbè dai ma che che mazzo treme allora comunque un mazzo tremendo eh è buona è buona è buona vabbè baralla era un po' difficile segnare bar andiamo porca di quella maledetta misera che cavo di passaggio no no vabbè avete visto quante volte l'ho presa e me l'ha fatta perdere quanto stiamo soffrendo eh quanto quanto FIFA vuole per forza ma Jens vai vai Jens ce la puoi fare vai perché così vabbè io non lo so mi ha dato una pala bruttissima vai bellissimo 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 mi stavo già bravo che Jens se l'ho detto questo è bravo sto ragazzo petto d'acciaio dico la vita non l'ho capito perché vabbè comunque è stato bravo magnifico magnifico ok bravo Jens solo che però quando giochiamo così bella questa vai 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 eh vai bellissimo che bella azione breve pensavo fosse fuori gioco vi dico la verità però è stato molto bravo a controllare a stoppare bravo Torres Torres c'è un piedino fatato infatti per questo io lo voglio far giocare possiamo rivedere l'azione del gol è una ripartenza da manuale non ha davvero lasciato scampo al porto pom vabbè è buona è buona è buonissima bravo va ok 4 a 0 è incredibile eh abbiamo giocato benissimo qua siamo usciti bene comunque non c'è niente da fare quando riesci a difendere bene vabbè quindi continuiamo a tenere sempre alta la testa con c'è niente di sone bisogna vincere perché lo sapete benissimo che addirittura va preso 10 eh questo è il momento buono poi arriverà sicuramente un calo tremendo perché è già capitato altre volte eh che è successo eh e mi stessa la gente non fa parlare del nuovo ruolo ah vabbè sì grazie alla disponibilità Barboot continua a giocare che è meglio eh sì ci dobbiamo occupare di qualche rinnovo eh offerta per il prestito sì facciamo così deleghiamo prestito soltanto per un anno e così stiamo a posto allora eh volevo un attimo rinnovare dei eh contratti prima che ci scordiamo abbiamo cereghetti che mancano dieci mesi quindi è meglio che lo rinno guadagna anche una mazza cereghetti quindi eh prima di crescita che c'ha che cereghetti una laterale sì non è ancora niente eh trattativa di contratto cereghetti penso che il modo di tenere perché cereghetti guadagna pochissimo però facciamo importante perché comunque lo sto cambiando lui è contento viene anche con la fascia cereghetti va bene così 4 anni cereghetti va bene anche 4 anni ignoriamo anche la causa 1.800 no no contro offerta facciamo così guarda ti modifico un po' lo stipendio cereghetti facciamo 1.500 dai ti voglio bene ah addirittura no possiamo fare 1.600 vabbè 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 va bene c'è raghetti che poi penso che comunque questi qua chiamano di più poi ci avevamo praticamente chi eh 10 mesi anche di me di me penso che a questo punto gli possiamo guarda 2.2 guadagna questo aspetta un attimo che è una di crescita che gli stai facendo fare stop sì che ha fatto non mi posso rinnovare il contratto perché si blocca offerte perché ma perché se ne va non capisco perché non gli possiamo rinnovare il contratto o si ritira o si è già accorato con qualcuno e mi è sfuggito no si è già accordato perché prima di crescere non posso allora facciamo una lista di trasferimenti sei un bastardo allora Demetrius te ne vuoi andare questo significa essere scorretti però c'abbiamo qualcun altro che sta a rinnovare torres torres io rinnovare questo vale c'ha molta richiesta torres 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 vediamo se riusciamo importante anche lui perché comunque vi farò fare parecchi grandi cruciale vuoi essere vabbè accettiamo dai 4 anni questo non ci sta 4 anni ma no ci sta 4 anni bravo ignoriamo la clausola 2 e 9 è un po' esagerato 2 e 9 allora facciamo così facciamo 2 e 5 2 e 6 e 26 vabbè torres rinnovato a questo punto rinnoviamo pure a Dordevic e basta si non so quanti giocatori che ci abbiamo andiamo con Dordevic allora Dordevic io starei un po' più attento nel senso che importante pure lui sì importante va bene ma è cruciale 4 anni di contratto ci stanno bene minoriamo anche la clausola va bene questo penso che devo dare sempre sui 2000 facciamo 200 forse gli potremmo dare pure qualcosina meno vabbè abbiamo fatto parecchi di nuovi ce la dovremmo fare col budget infatti ce la facciamo andiamo avanti quindi in pratica allora Demetrius che vuole se ne vuole andare sono felice che abbia deciso siamo d'accordo dunque perché non c'era la possibilità di potergli innovare il contratto allora dobbiamo fare un po' di cambi magliette sì va bene così allora Adams va bene così allora quindi faccio giocare a Torres se no poi si incavola sicuramente ci portiamo questo torgo e ci mettiamo a Dordevic se no poi non mi gioca dove sta Dordevic già sta in campo Altamarina nel parquet che sta Dordevic ma lo vedo scusami poi c'è ragazzi giochi tu Shepard come stai ma sta ancora cercato Shepard non ce la fai fa bene Cogniz casumo pure può Shain pure sta giocando Barbutto lo farei giocare che sta bene così Gilly Kens me lo voglio portare a posto così direi di giocare così poi magari vediamo di fare qualche altro cambio dai perché se riusciamo a capire che così facendo ruotare un po' tutti i giocatori alla fine ho capito che in pratica se riusciamo ad avere in quella fase dove generalmente subiamo il goal a difendere bene possiamo eccolo qua ma l'avevo visto tipo tre minuti prima che ci infilavano così eh quando ho visto che curandava in profondità ho detto ok lo perdiamo sicuramente e infatti l'abbiamo perso va guarda come è partito guarda come è partito perso ok bravo Cereghetti bravo Cereghetti vai forse dovevo tirare con Cereghetti lo sapete ok porca miseria ma me lo sono perso proprio ma me lo sono proprio perso qua mi ha fregato vedi la mi ha fregato cosa è no aspettami vai perché ti fai sempre anticipare si è fatto anticipare due volte Abrams è buona è buona fai torres vai vai Barbut bello Barbut l'ho detto che è un Machida trucchiato più basso più concentrato comunque ma poi è uno che c'è sempre cioè riesce sempre a fare il suo dimostra sempre l'abbiamo preso nel nel Perugia mi pare il primo anno non mi ricordo comunque è stato bravo pure torres ok bravo vai che pecchiato pensavo dovevo riuscire a tirare no ma io non li vedo qua no arbitro e ma no ma pure sbagliato da asso comunque non ho capito questa cosa eh che palla mi dai è buona è buona vai io penso che puoi anche segnare bravo edwards giocato malissimo oggi edwards ha fatto una cosa buona questa cosa ha fatto comunque ho sbagliato perché per cercare di fare usci il portiere ho provato un altro tasto cioè addirittura ho provato il tasto vabbè fa niente dai meno male meno male comunque dai non capisco casumo ma terra l'onità oh ma porca di quella paletta oh che mazzo tremendo ma manco i falli oh vada ci hanno vada questa è una partita sfortunata palo rete cioè questo si è girato ha tirato ha chiuso gli occhi ha preso il palo e poi la rete si si esultate esultate king non è colpa tua che ci può fare vada là ha spasso si ha spasso avanza 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 che buono poi Gakuto bravo Gakuto ok guarda abbiamo visto che è una partita che si poteva tranquillamente veramente si poteva vincere abbiamo giocato molto male a difesa cambiavo il problema è che non possiamo giocare con tutti sempre i stessi difensori è amare che so schiarsi almeno su chi buono vai 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 avanza forza forza che buono vai vai no ma come non sarebbe è un metro e novanta è ottantasette quasi non apre non è la prima volta che ok vai mamma mia ragazzi bravo Dordevic da 2 a 0 4 a 3 cioè incredibile l'ho detto se riusciamo a far ruotare sempre a tutti quanti teniamo tutti i giocatori a mille l'unico problema sono i difensori sono i difensori l'unico problema finiamo la striscia positiva raga ma manco a dirlo non sia mai che ci dice male comunque importante vincere 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 da cercare di tenere un bel distacco perché quanto stiamo siamo a 20 cerchetti è diventato che cosa laterale penso cerchetti si laterale questo già migliora più porca praticamente io ho rinnovato il contatto già non mi migliora più cerchetti porca miseria cerchetti ma c'hai 19 anni cerchetti c'è più di tanto non non migliori cerchetti che ti posso fare facciamo così mamma cerchetti mi cadono le braccia cerchetti però pensavo che che fosse abbastanza bravo invece no più di tanto non migliora ah accordo per il pezzo di oven ci fa piacere quindi accettiamo allora a questo punto devo capire se possiamo provare a fare questo guardate magliette come sono eh meno male che meno male che ho visto le magliette che spesso e volentieri ci crea problemi così è meglio sicuramente voglio provare allora a cambiare vabbè che tanto come va adesso non dovremmo avere problemi perché Collins se avete riposato voi dallo a Shepard pensa che può entrare no Shepard ma che Shepard sta ancora fatto ma ah è ancora è ancora morto questo vuole inventare Cereghetti gioca tu Cereghetti mi ha un po' deluto anche se no facciamo giocata Einstein Cereghetti già ha giocato Kasumu facciamo giocare al Tamarino ok e non sta bene lì voglio far giocare a Pico Bah no facciamo giocare a Bah che è meglio però mi voglio portare sapete chi che Abram se me lo porti in panchina è sempre meglio Gilligan se non ha giocato così mettiamo Clayson ok e poi io giocherei così poi magari vediamo se fare qualche candola dai vediamo se riusciamo occhio occhio è buona bellissimo bravissimo ormai è questo l'uro di Edwards difende di meno ma segna tantissimo già bravissimo ok c'è un piedino cioè ormai abbiamo impostato in maniera mannaggia Bah aspetta Bah mamma mia Barbut mamma mia che giocatore che è Barbut che giocatore che è Barbut è un giocatore impressionante Barbut impressionante Barbut cioè avete visto cambio di direzione vada lì vada palla in profondità pum vabbè eh ma allora ti dica la verità ti ha sempre ti ha sempre seguito doppietta di Barbut è incredibile ma poi riesce ad attaccare tantissimo la porta e ho detto se avete la possibilità compratelo perché sembra scarso veramente sembra scarso invece avete visto come gioco ripartenza micidiale l'attaccante e non è neanche il suo ruolo eh il centrale vero badalo e vai bellissimo 4 a 0 eh cioè questi non stanno capendo niente proprio un mazziatone tremendo che abbiamo fatto vabbè ok nostra buona buona bellissima ma questo pure è forte di piedi questa è stata un'altra scommessa che abbiamo becchiato porca paletta vabbè penso che il suo l'ha fatto tutti quanti in avanti no vabbè vabbè ci sta dai ci siamo un po' distratti ci sta si che sta la ah mannaggia era buona guani testa aspettami e mi sa praticamente ci sono state due doppiette tre doppiette una di Edwards una di Barbut e un'altra di chi ha fatto l'altra due doppiette non mi ricordo ma mi pare che sia England vabbè diciamo che il mercato sta fruttando abbastanza bene perché siamo riusciti comunque a venire fuori da tre partite una un po' più sofferente ma poi le altre porca abbiamo già due punti di vantaggio abbiamo veramente giocato bene comunque rifiutato il prestito vabbè rifiutato il prestito ben lavoro a inizio di avermi segnato il segnato obiettivo aumenta valore del club nel giro di una stagione lo avete segnato i primi secondi possiamo confermare che aveva raggiunto e voglio pure vedere niente di me siamo arrivati a sto punto siamo abbastanza competitivi vabbè ragazzi questa parte la possiamo terminare qui non abbiamo soltanto no England è a sei gol sì pensavo meglio comunque siamo a due punti siamo primi due punti di vantaggio mi pare che passano le prime due non mi vorrei sbagliare quindi sarebbe già un ottimo risultato perché sulla terza abbiamo già sei punti ma non è detto ancora niente ci vediamo sulla prossima bye ciao